da giovani azienda la cosa più importante era farsi conoscere e cominciare a capire come lavorano le altre aziende i possibili clienti ma anche se i membri del tuo tavolo del tuo gruppo non sono veri clienti magari potrebbero essere una tipologia di clienti quindi comunque anche capire come ragionano è molto importante abbiamo cominciato a frequentare io ho cominciato a frequentare le prime colazioni di Convergo allora eravamo in un posto dove eravamo? Non mi ricordo in un'osteria San Francesco e da lì appunto ci siamo cominciati piano piano a conoscere una rete di imprenditori sempre molto vari quindi è stato molto interessante anche conoscere diverse realtà e anche il modo di approcciare soprattutto il nostro settore che non è conosciuto da tantissimi quindi tutto il settore del digital ormai tutti pensano che ormai tutti masticano il digital in una maniera perfetta in realtà non è assolutamente vero quindi anche un po' dare un po' qualche pillolina ogni tanto su qualche termine o qualche metodologia e alla fine abbiamo visto che ripaga, ripaga ovviamente non è un qualcosa che ti torna subito perché ovviamente devi seminare come tutte le cose però se semini bene ti crei delle belle relazioni poi alla fine ti torna tutto ti torna tutto